Sì, sei sicuro che non è rotto? Ah, professore, mi vuole insegnare a me se il naso è rotto o no? E dai, c'è un'anticchia di esperienza a più. Oh, sfidati però. Pia, piai! Fermo, buono, tira su. Fidati, fida, fida. Tira di conto, non devi avere queste botte di matto. Oh, ma hanno insultato mi madre. Insultato, figlio di miniotta. Ormai è il tercalare, no? Ok. Sì, vabbè. Ok. Senti, poi devi dormire, questa è tua rabbia. Devi imbrigliarla, come dire. Non dico che non devi sentirla, ma dai piano. Dai. Devi tirassù, su. Sì, devi incanararla in qualcosa di più alto. Sommi in realtà. Va meglio? Sì, va meglio. Sì, va meglio. E poi quando ti arrabbi, ascoltami però, e quando ti arrabbi, devi respirare, contare e soprattutto la mia realtà. Pensa. Sì, dovevo pensare io. Guardate, a forza di pensare, sei incastrato. Ah, oh! Tieni, dai, su. Comunque pure mia madre si chiamava Cecilia. Sì. Purtroppo è morta sei anni fa di cancro. Brutta storia, eh. Però era forte, era forte. Sì, mi ha cresciuto da sola. Da sola. E poi diceva sempre che non mi devo fare di scemo dagli altri, come lei. Adesso, quando vado in campo, sulla maia c'ho scritto il nome suo. Ferro. Mi dispiace solo che non gli ho fatto fare una bella vita, ecco. La fondazione è per lei, eh? Sì. Facciamo delle aste con le magliette e poi diamo tutto a sta associazione. Oh, per questo però devi tirassù che fa, se scorda. Sì, sta, sta, sta. Mi manca. Ci vedo. A lei? Che c'è? Ma quanto è brutto, se metta a sto coso, per favore. E dai, insomma, mi pare pronto. Ma perché? Hai capito? Si ricorda? Si fatto. Brutto forte, eh? Meglio che fai un giro con qualcosa sopra. Ma perché te sei spostato? Poi piglia su il cazzazzo. Allora, è capitato, che devo fare? Ha, 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 ha